Un'altra gara super interessante è alle porte, infatti questo weekend esisterà l'Europa Pro in Spagna d'Alicante, questa è la lista iniziale con ben 23 partecipanti, ancora di più della scorsa gara a Milano, praticamente alla fine sono gli stessi partecipanti tranne Blessing, alla fine sono sempre gli stessi, quindi elencherò solo la mia probabilità del top 6. Ecco, comunque secondo me vincerà anche qui Nathan Yasha e secondo me Nathan più di così non può farcela, nel senso più di così non può migliorare perché è già perfetto, cioè non aveva nessun difetto la scorsa settimana per quanto riguarda la condizione, la pienezza muscolare e l'acqua in corpo, era perfetto quindi deve solamente cercare di mantenere la forma senza andarla a rovinare, Cosa che per lui è alquanto impossibile perché arriva sempre tirato e più fa gare più la condizione migliora, quindi dubito che porterà una forma peggiore, praticamente secondo me ha già vinto e non penso che Regan possa batterlo, A meno che ecco i giudici non facciano questo ragionamento, ovvero che vogliono far vincere un atleta che non è ancora qualificato all'Olimpia, questo dipenderà solo da loro, però se non dovessero fare questo ragionamento vincerà tranquillamente Nathan perché è migliore rispetto a Regan, è un bodybuilder più completo, con più distinta muscolare, più maturità, più dettagli, più separazione e tutto, quindi se i giudici non interesserà il fatto che Nathan abbia già vinto una gara e appunto sia già qualificato all'Olimpia, vincerà lui perché è migliore rispetto a Regan sotto ogni punto di vista. Appunto poi c'è anche Regan Grimes a questa gara per tentare la qualifica all'Olimpia, allora la forma di Regan è stata un po' così così a Milano, la condizione era un po' indietro, c'era un po' di acqua, però poi come ho detto molto spesso è migliorata alle finali, per quanto riguarda i volumi, Regan secondo me è cresciuto molto, mi è sembrato molto più grosso rispetto a due anni fa, quindi i volumi muscolari, gli acquisiti, è che ora lì manca la durezza e la condizione e i dettagli e anche qualche altra area del corpo da riempire, tipo il petto, nel side chest il petto di Regan era completamente piatto rispetto a quello di Nathan che a momenti esplode, quindi il petto è una cosa su cui deve migliorare molto, però a parte questo i volumi ce li aveva e secondo me è cresciuto molto in questi due anni, solo che la condizione non era al pari e spero che la migliori a questa gara e secondo me è una cosa molto probabile, però anche con una condizione perfetta, secondo me Regan non può comunque battere Nathan, perché Nathan ripeto è un bodybuilder superiore sotto ogni punto di vista muscolarmente e per quanto riguarda i dettagli muscolari, c'è proprio un'altra storia, quindi anche se Regan arriva tirato tirato, vincerà comunque Nathan. Anche Roman Fritz, che anche lui è già qualificato all'Olimpia, gareggerà in Spagna, apprezzo il fatto che continui a gareggiare anche se è già qualificato, questa è una cosa che mi piace molto, perché non mi piace uno che fa una gara, la vince e poi boom, dritta all'Olimpia, cioè mi piace uno che continua a gareggiare e non mandando a puttana la sua forma, perché lui la sua forma la mantiene sempre, quindi non rischia di rovinarsi. Comunque, anche per lui vale lo stesso discorso di Nathan, ovvero più di così ecco non può migliorare, la sua forma a Milano era perfetta, quindi deve cercare di mantenerla. In gara era il più definito di tutti, la pelle era super sottile, specialmente di schiena, i femorali e i glutei sono qualcosa di stratosferico, e il bello è che i glutei neanche li contraeva, non contraeva i glutei ed erano super striati, quindi immaginate se avesse contratto i glutei quanto sarebbe stato stratosferico. Comunque, qui lo metto terzo ancora, a meno che Liam Young, l'atleta cinese, arrivi più tirato. Se Liam arriva più tirato, secondo me può battere Roman. Roman è un atleta super completo sotto ogni punto di vista, petto, spalle, braccia, gambe, schiena, ha tutto, ha veramente tutto, solo che gli manca la condizione e i dettagli. Era molto molto morbido, e se lo confrontiamo con Roman, che è squartato e ha sofferto un pochino sotto questo aspetto, però ha veramente tutto, gli serve solo la condizione e i dettagli molto profondi. Quindi prevedo ancora una bella battaglia tra lui e Roman per il terzo e il quarto posto. Se Liam dovesse arrivare più tirato, molto probabilmente sarà lui ad arrivare terzo e quindi anche sul podio. Poi c'è anche Tio Legarriere. Allora, la sua prestazione a Milano mi è piaciuta così così. Allora, la sua forma era buona, non stratosferica, ecco, era buona. Solo che poi, alla fine dei confronti, ha iniziato a sudare veramente un sacco. Era letteralmente un lago e faceva molta fatica a tenere le pose perché veramente era un lago di sudore. E man mano che sudava mi pare che si sia anche svuotato un pochino. Anche lui è un atleta che tende a migliorare di gara in gara, quindi immagino che anche questa gara arrivi più tirato. C'è anche Tim Budesheim che mi ha veramente stupito a Milano. Come sapete, a me Tim non è mai piaciuto, ma proprio per niente. Però a Milano veramente mi ha lasciato a bocca aperta. Era enorme, veramente enorme, con delle masse, delle ottonità veramente spettacolari. Quindi mi è piaciuto un sacco e penso sia cresciuto un bel po' rispetto all'anno scorso. Peccato per la struttura così così sul front, però davvero ragazzi, era enorme e anche la schiena è migliorata molto. Quindi complimenti veramente a Tim. E io onestamente l'avrei messo davanti a Tio. Avrei messo Tim sesto e Tio settimo, perché Tio, come ho detto prima, iniziava a sudare e si è svuotato un po'. Quindi avrei messo Tim sesto. Comunque anche qui prevedo una bella battaglia tra loro due per il quinto o sesto posto. Comunque poi avete visto che nella lista ci sono anche due italiani, Bolzoni e Bassanelli. Ho fatto un video apposta lo scorso giorno per parlare solo della loro ultima prestazione a Milano. Quindi ho già detto cosa ne penso di loro. Quindi se volete guardarvelo, guardatevelo pure. Anche qui entrare in top 10 sarà veramente dura e molto difficile. Però ecco, loro si impegneranno al massimo. E quindi in bocca al lupo ad Andrea e Simone. Comunque fatemi sapere la vostra, fatemi sapere chi secondo voi vincerà questa gara. Se sarà ancora Nathan o se sarà Regan, fatemelo sapere. Vi chiedo il like e un commento come al solito. E ci vediamo in un nuovo video.